Le soddisfazioni del weekend non finiscono mai ragazzi! Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Allora, Bari batte Perugia 1-0 e si consolida terza forza del campionato. A meno due dal Cagliari che ieri ha raccolto un pareggio a Livorno e a meno due dal Crotone che deve giocare col Modena. Che non ci rievoca di certo bellissimi ricordi. Quindi partita bruttissima ma partita bloccata da morire data anche dal fatto che il Perugia gioca solo a difendere ed è la fisionomia di Bisoli che da quando comunque è arrivato in Umbria fa giocare una squadra che ha raccolto ben 7 volte 1-0-0 in questo campionato. Quindi spesso vi siete fatti un'idea di come ha giocato il Perugia oggi e come sta giocando in questo campionato. Ormai è un lontano ricordo quel Perugia di Falcinelli dello scorso anno che riuscì ad arrivare ai playoff. Allora per quanto riguarda il Bari è una partita che il Bari cerca di interpretare nel miglior modo possibile cioè cerca di attaccare e di spingere il Perugia nella sua metà campo però senza successo nel primo tempo quando non riusciamo praticamente mai ma dico proprio mai a tirare in porta. Monologo dei Biancorossi per quanto riguarda il Tichita che ha il possesso palla anche nel secondo tempo quando però comunque il Bari riesce a trovare il colpo da biliardo riesce ad andare in vantaggio. Ovvero la palla sullo sviluppo di un calcio d'angolo arriva a Sabelli che è ben appostato fuori dall'area di rigore. Sabelli controlla e scarica un tiro fantastico che batte Rosati. Sabelli poi va ad esultare sotto la tribuna ovest. Grande gol e grande festa al San Nicola si rianima la curva a nord che inizia ad eccitare ancora di più di come aveva fatto nel primo tempo i nostri ragazzi. Non succede praticamente più niente finché non arriviamo ai minuti di recupero ovvero al 46esimo tra parentesi ragazzi i minuti di recupero erano 4 abbiamo giocato fino al 53esimo. Ditemi voi se qualcuno non voleva che il Perugia pareggiasse però alla fine ci stavano riuscendo perché Sabelli che è un'ottima promessa come giocatore riesce a mandare al bar De Luca sulla fascia sulla corsia di destra riesce a mettere in mezzo un po' pallone. Guarna ci arriva poi Guarna riprende la palla ma Zebli tenta di insistere sottraendola allo stesso portiere bianco-rosso. La palla arriva sui piedi di Ardemagni che mette dentro il gol dell'1-1 quello che sarebbe stato il gol dell'1-1. L'arbitro però aveva rischiato giustamente perché c'era stata precedentemente la carica di Zebli sul portiere ovvero Guarna. Quando aveva ribattuto il pallone era riuscito ad avventarsi a prendere comunque con una presa ferrea a terra il pallone in Zebli e l'aveva comunque toccato con il piede a destra e quindi in quei casi è carica sul portiere e quindi gol giusto da annullare. Vabbè al Bari comunque sono stati ravvisati due fuorigiocchi nel primo tempo che avevano portato entrambi a due gol ma ormai l'arbitro comunque aveva già fischiato. E niente ragazzi partita scialbissima non c'è altro da dire il miglior in capo sono stati il solito Sabelli, Guarna che comunque si è fatto trovare sempre preciso oggi. E soprattutto vabbè il solito Giuseppe De Luca che inventa e gioca come ha sempre fatto ovvero con grande costanza e determinazione. Forse se si è sentita anche di noia ha giocato benissimo comunque nel primo tempo ha fatto sentire la sua freschezza e vivacità soprattutto è un ottimo giocatore per quanto riguarda i contrasti e la fase difensiva ma anche di impostare e ripartire è un'ottima premessa del calcio barese. Poiché altro se è sentita l'assenza di Valiani a centrocampo che secondo me al posto di Porcari in questo trio inedito Gesoglu di noia e magari un Valiani in futuro sarebbe stato utile anche per andare a chiuderla prima questa partita magari a sbloccarla prima. Comunque il Bari si dimostra squadra micidiale per quanto riguarda il secondo tempo riesce sempre a sbloccare la partita nei secondi 45 minuti. C'è riuscita oggi al 67esimo con Stefano Sabelli e così tale è rimasto il risultato. Bari batte Perugia 1-0 e si porta al terzo posto della classifica. Se questo video vi è piaciuto come al solito lasciate un commento, mi piace e condividete. Bella ragazzi, buona domenica, un saluto da Silverala.